Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. E beh, è stato un piacere parlare con voi e spero di rivedere tutti presto. Ciao a tutti, è stato un piacere. Benvenuta alla nuova puntata, abbiamo ospite, allora, attore con specializzazione doppiatore, dialoghista, direttore di doppiaggio. A questo punto, Gerolamo Alchieri, la prima domanda viene spontanea. Se oggi dovessi descrivere chi è Gerolamo, per chi ci ascolta, come ti descriveresti? E soprattutto, se utilizzeresti un personaggio, in che personaggio ti rappresenteresti? Cominci con le domande difficilissime. Dunque, chi è oggi Gerolamo Alchieri? Ma io ho sempre sognato di fare questo mestiere, fin da quando ero ragazzino, di fare l'attore. E quindi ho avuto la fortuna di riuscire a farlo. E tutto lì, insomma, perché poi ho sempre lavorato. Prima ho fatto per più di vent'anni solo teatro, poi mi sono avvicinato al doppiaggio. E sto andando avanti con quello. Con quale personaggio? Guarda, non mi viene in mente un personaggio. Diciamo una persona, ti dico una qualità, molto testardo. Molto testardo e in senso buono, insomma. Nel senso che se voglio una cosa, prima o poi, in qualche modo, ci arrivo. Io partirei subito. Hai iniziato nel, pari del 73 come attore, e la compagnia Gasman. Io, il primo lavoro ci ha avuto Vittorio Gasman come direttore regista. Qual è stata la sensazione, che cosa ricordi di quel periodo, le emozioni che hai provato? Soprattutto salire sul palco quando ti si apri la quarta platea. Che cosa è poi rimasto nel tempo della prima quarta platea, che è silenziosa e poi si anima. Poi Brucio, c'è quel sorriso, il pianto. E un pochettino tutto questo. Cosa ricordi di quel periodo? Ma dunque, è stato un momento un po' particolare. Io stavo ancora facendo la scuola al Teatro Stabile di Genova. Gasman venne a Genova, io sono di Genova, venne a Genova con uno spettacolo che si chiamava Il Trasloco, che era un collage di testi. Erano gli anni delle contestazioni, della guerra in Vietnam, per cui non lo fece in un luogo deputato teatrale, ma alla sala chiamata Porto. E chiese alla scuola degli alunni per fare delle piccole comparsate, comparsate parlate, avevamo anche un paio di battute da dire. Poi fortuna o sfortuna volle che vennero dei ragazzi che avevano pubblicato un libro sulle lettere dei soldati dal Vietnam, un libro di poesia effettivamente, e chiesero a Gasman di leggerne qualcuno. E Gasman disse, no vabbè, non voglio fare, fatelo fare a questi ragazzi, eravamo in due. E per cui improvvisamente mi sono ritrovato a dover recitare un paio di monologhi di fronte a Gasman, per la prima volta di fronte a una platea, è stato molto emozionante. Ti posso dire che, così come aneddoto, dato che era una situazione appunto informale teatralmente, non c'era una divisione di quarta parete di cui parlavi tu, ma era una sala chiamata, per cui noi ragazzi stavamo in mezzo al pubblico, poi quando toccava a noi andavamo in palcoscenico a fare quello che dovevamo fare. E io ero talmente rapito dalla bravura di quest'uomo, che indubbiamente era magnetico, in palcoscenico, aveva un magnetismo molto forte, che non mi muovevo di lì. Ero talmente rapito da lui, che al momento in cui dovevo entrare in scena, io non c'ero, stavo in platea, infatti c'era il direttore di scena che mi chiamava a gran bracciato. E insomma, è stato un bel momento, un bel momento che ricordo con molto affetto e molta emozione. Poi cosa mi hai chiesto? No, io dicevo, quell'emozione che poi ti porti nel tempo, perché il teatro poi nel tempo è cresciuto, hai sentito tanta gente, poi scendendo al palco, quell'emozione l'hai rivista negli occhi della persona che ti incontravano, ti facevano i complimenti, ma non solo, ti facevano domande, e tu hai dato delle risposte che nel loro viso l'hai vista felici, contente, emozionate. Qual è poi stata la tua reazione, la tua sensazione che hai provato, quando hai dato quelle risposte e le hai viste sorridere o emozionarsi appunto tale che non riuscivano neanche a parlare? Ma sai, il teatro, quando lo facevo io, insomma, si faceva a lungo, non è come adesso che, se capita che hai una scrittura di un mese, è già grasso che cola. Io facevo tournée che duravano undici mesi l'anno, per cui, facendo teatro tutte le sere, per undici mesi l'anno, non tutte le sere sono uguali, certe sere sei depresso, certe sere sei contento, esaltato, insomma, dipende, dipende. Ho avuto la fortuna di partecipare al debutto italiano di Rumori fuori scena, che è una commedia di Michael Frank, che ancora adesso è in scena, io ho fatto duemila repliche negli anni di questa commedia, potrei farla adesso, che è un testo molto divertente e questo era molto emozionante, il dopo era molto emozionante, perché avevi fuori della gente che era eccitatissima, entusiasta e sentivi davvero di aver regalato due ore di risate, di spensieratezza e questo è molto gratificante. Poi ti ripeto, non tutti i giorni sono uguali, magari una sera ti girano le scatole, non te frea niente. Però tu hai citato il film Rumori fuori scena, perché a volte è stato fatto anche il film, tra l'altro hai rappresentato effettivamente quello che nella vita del teatro succede. Nel primo atto c'è la visione del pubblico, nel secondo atto c'è dietro, cioè in fondo lo spettacolo dipende dalla giornata, perché non esiste una giornata, può esserci una platea che ti rende molto, o poi il giorno dopo quello spettacolo non funziona perché ti trovi avanti persone che sono diverse dal coso. Poi dopo, quando nasce l'idea di fare la specializzazione nel doppiaggio? Perché poi da lì sei passato al doppiaggio. Quando nasce l'idea di spostarti nel mondo del doppiaggio? In realtà non nasce da me. Io ho fatto la scuola di teatro Savio di Genova, l'avevo come compagno e caro amico Mario Cordoba, che aveva cominciato anche lui a fare un po' di teatro, ma dopo poco ha smesso ed è diventato vivo del doppiaggio. Tutte le volte che lo incontravo mi diceva ma vieni a fare il doppiaggio, che sta a fare il teatro. Ma io non mi interessava granché e ho continuato a fare teatro. Poi ho avuto la fortuna di nuovo di tradurre per il teatro la versione italiana di Chorus Line, il musical, e il secondo anno facevo Zac, che è il coreografo. Nello spettacolo interpretavo anche Zac. Cassi, che era la prima ballerina, la prima attrice, era Maria Laura Baccarini. Straordinaria. Io stavo sempre in platea, ma la maggior parte del tempo Zac sta in platea e parla al microfono. Poi in un paio di momenti va anche in palcoscenico, ma la maggior parte del tempo è sempre in platea. Il papà di Maria Laura, Carlo Baccarini, veniva tutte le sere a vedere sua figlia e quindi tutte le sere sentiva me per forza di cose. E lui era presidente della CVD, che è un'importante società di doppiaggio, una cooperativa di doppiaggio e fu lui a dirmi ma perché non vieni a fare doppiaggio sentendomi tutte le sere al microfono e mi diceva tu hai una voce che per il doppiaggio può funzionare e per cui mi sono avvicinato a questo mondo e dato che il teatro cominciava anche a essere un po' in crisi, diciamo, le occasioni di lavoro erano sempre meno e sempre più sporadiche, sempre meno interessanti e per cui ho detto perché no e così ho approcciato il lavoro del doppiaggio a cui sono molto grato perché in questo paese lo dico con intento polemico, lo dico sempre, il doppiaggio è l'unica come dire, l'unica branchia del nostro lavoro di attore che ancora ha un certo rispetto per la meritocrazia, nel senso che essendo che si macinano centinaia di milioni di interessi di case cinematografiche, non si può essere improvvisati, non puoi andare a... cioè, la velina e il tronista forse possono fare la serie televisiva, forse possono fare il teatro, ma il doppiaggio no e quindi è una salvaguarda della professionalità che mi dà molto gusto. E infatti la domanda successiva volevo chiederti com'è cambiato? Tecnicamente sappiamo che poi hai iniziato con le bobbine, con taglia la paletta rossa, parti, il tempo di stacco, c'erano i tempi di pausa perché se la scena andava male devo ripeterla completamente, non è che adesso si taglia il frame, però dal tempo in realtà il doppiaggio com'è cambiato secondo te da quando è iniziato ad oggi? Eh, purtroppo sarò di nuovo polemico, è cambiato in peggio nel senso che i tempi meccanici di tagliare la pellicola, formare l'anello, metterlo nella macchina da presa, vederlo, provarlo, poi una volta inciso smontare, riunire la pellicola, tagliare un altro pezzo, erano tempi molto lunghi, poi sono arrivate le videocassette e quindi si andate più veloci, poi sono arrivati i laser disc e quindi non fai a tempo a finire che puoi ricominciare, questo avrebbe dovuto migliorare la qualità perché essendo dei tempi molto più veloci si sarebbe dovuto avere più tempo per fare meglio questo lavoro, ma ahimè invece visto che si va più veloci allora si deve produrre di più e adesso ci ritroviamo in una situazione in cui appunto stiamo scioperando anche per quello perché a parte il fatto che il nostro contratto è fermo da 15 anni che non sono pochi ma poi i tempi di lavorazione sono diventati assurdi facciamo una mole di righe a turno che non ci permettono di alzare un po' la stecca della qualità anzi si è un po' abbassata perché ovviamente dovendo correre la fretta non è mai amica della qualità e quindi è un po' peggiorato ora noi speriamo di riuscire a ridare dignità a questo lavoro anche perché c'è l'intelligenza artificiale che ci minaccia ormai la gente può tranquillamente guardarsi i telefilm i film in lingua e quindi l'unica nostra salvezza è diventare più bravi insomma è diventare alzare la qualità fare la differenza tra noi e l'intelligenza artificiale che potrebbe soppiantarci in capo a qualche anno forse anche meno citando il fatto che i tempi sono così brevi che a volte capita di sentirti dire tecnicamente perfetto perché il sincro è preciso però l'interpretazione la recitazione che nella lingua originale poi risulta piatta può capitare a volte sì purtroppo purtroppo sì perché ti ripeto non avendo il tempo di assimilare quello cioè tu tu arrivi lì devi vederla e farla insomma non è sempre facile addirittura poi non parliamo dei reality dove si sono inventati questo simil sync per cui noi maciniamo tre quattrocento righe in un turno di un documentario che non abbiamo mai visto non sappiamo neanche di cosa parla andiamo lì e leggiamo e dobbiamo essere bravi all'impronta e questo ovviamente abbassa la qualità nonostante ci siano dei bravissimi professionisti del doppiaggio e poi c'è un'altra questione che non permette insomma è diventato molto difficile per qualcuno entrare in questo meccanismo perché quando i tempi erano diversi io per mesi ho assistito a turni di doppiaggio senza fare niente solo assistere e guardare come si lavora guardare quelli bravi come fanno e poi piano e poi un direttore io una volta ho detto un sì l'hanno inciso sedici volte perché questo sì che dicevo io il direttore lo voleva in un certo modo oggi un direttore non ha il tempo di curare così tanto una battuta non c'è proprio il tempo tantomeno se poi hai a leggio un ragazzo giovane che ha le prime esperienze non hai tempo di insegnargli per cui cosa fai? ti affidi a quelli che lo fanno già e per cui per un ragazzo giovane è molto più difficile entrare e però si ha bisogno anche di un ricambio generazionale servono anche le voci nuove quindi insomma bisogna riorganizzare un po' tutto poi ho iniziato con le scene di Brusio dove ci stavano tante persone nel microfono e si prende diciamo un tornello ma si girava in modo da adesso i ragazzi molto frequentemente ho fatto diritti d'autore privacy covid che si sta nella sala questo però non c'è rischio che possa penalizzare poi alla fine al fine del prodotto perché in realtà quella scena risulta un pochettino più limitata rispetto al precedente sì senz'altro senz'altro è un'altra questione che ormai noi lavoriamo da soli una volta si lavora anche una scena a parte il Brusio ma anche una scena tra o drammatica o comica tra due attori due e tre una volta si faceva insieme adesso è tutto colonna separata per cui si è sempre da soli e per cui io oggi faccio una cosa e chi mi risponde lo fa tre giorni dopo in un altro orario e questo non sempre aiuta io poi vengo dal teatro per cui per me è importante recitare insieme al compagno ti ripeto ci sono tutta una serie di questioni che andrebbero veramente riorganizzate ed è quello che speriamo di riuscire a fare il doppiatore effettivamente da voce anima con la propria voce però non è che sta fermo se il personaggio mangia lui mangia se un poettino c'è quella sensualità c'è perché deve dare vita quindi non è una cosa improvvisata ci sono specializzazioni e poi perfezionamenti perché non è che poi inizia a doppiare e poi da lì si ferma ma bisogna sempre cominciare a studiare e lavorare sulla propria voce sì 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 si dovrebbe sì nelle scene che hai fatto ti ricordi qual è quella tra tanti film perché noi citiamo abbiamo visto sappiamo Mir Pirate Caraibi Madagascar Your Name anime giapponesi qual è nel tempo poi killer per caso anche perché noi siamo anche fan di El Sogreggio e quella scena che nel tempo ti accoggi che è stata molto difficile però ti ha dato anche più soddisfazione nel tempo ti sei portato un po' dietro anche se poi hai fatto tante scene e non le puoi ricordare tutte chiaramente sì è un po' difficile perché poi appunto noi magari in una giornata lavoriamo in un film in un telefilm e in un reality e il giorno dopo invece due telefilm un reality quindi insomma ricordarmi una scena in particolare mi è un po' difficile ti posso dire che ho certi personaggi li ho nel cuore quello forse farà ridere ma insomma quello che più ho nel cuore è la puzzola pepe dell'unitunes che ormai non c'è più tra l'altro quella che parla con la scena francese circa le gattine che canta e a me piace molto cantare ed è molto divertente è veramente è stato un cartone bellissimo da fare purtroppo non c'è più anche per nell'ultimo Space Jam avevano girato una scena anche con la puzzola ma poi in odore di Me Too e tutto quanto hanno ritenuto che la puzzola sia inneggi gli americani questo inneggi allo stupro e l'hanno tagliata perché la gattina non è consenziente e la puzzola insiste troppo questo è un po' assurdo ma comunque la puzzola non c'è più per ora almeno poi mi dicevi beh io mi ricordo per esempio quando ho fatto Tamara Drew come si chiama Tamara Drew tradimenti all'inglese mi pare si chiama diretto da Francesco Vairano che è uno dei più bravi direttori e adattatori che esista e il mio personaggio mangiava continuamente e per cui Francesco ha praticamente svuotato la macchinetta dei dolciumi e io ho masticato tortine per un poverizzo intero ma soprattutto il personaggio di Madagascar Kowalski che Kowalski è un genio è divertente anche quello è stato molto divertente poi vedi i pinguini nel Madagascar dicevano una battuta a testa avevano poco e niente poi hanno avuto così successo che ne hanno fatto una serie televisiva e un film ed è stato molto divertente veramente a questo punto sei anche direttore di doppiaggio quale difficoltà c'è quale difficoltà c'è essere doppiatore e direttore di doppiaggio perché il direttore di doppiaggio è colui che fa scegliere le voci adatte ai personaggi e studiare prende si vede il film in anteprima vede tutto quello che deve fare i personaggi e studiarli quali sono le difficoltà dall'uno all'altro a parte perché tu puoi interpretare tutte e due le parti dunque l'attore spesso ha la difficoltà di arrivare in sala e non sapere cosa sta facendo e magari il direttore glielo spiega anche nel poco tempo disponibile però molte volte per esempio recentemente ho fatto Cocaine Bear che è questo Cocaine Orso che deve ancora uscire e sono andato in sala e il direttore Riccardo Rossi mi ha detto guarda è un film un po' demenziale però io non avevo capito all'inizio di che cosa si trattava mi sembrava un po' una scoppitaggine in realtà poi andando avanti mi sono divertito un mondo perché è un film assolutamente demenziale ma l'ho capito in corso d'opera non so come dire quindi questa è una difficoltà dell'attore la difficoltà del direttore intanto è che le tre ore di turno per il direttore sono tre ore piene mentre l'attore magari lavora venti minuti oppure lavora due ore oppure lavora dieci minuti poi esce poi ritorna e lavora un'altra per il direttore sono tre ore piene quindi quando fai tre turni al giorno di direttore vuol dire che stai nove ore completamente concentrato questa è abbastanza faticosa e poi devi avere come dicevi tu il direttore se lo guarda prima se lo studia prima fa la distribuzione devi avere un pochettino l'idea generale di quello che vai a fare insomma di quello che stai facendo e devi mantenerla per tutte le colonne separate che magari appunto uno incide oggi l'altro incide fra una settimana e devi ricordarti tutto quanto insomma fare da collante a tutto quanto però è bello fare il direttore io lo faccio da alcuni anni saltuariamente non sono un direttore di quelli che viene chiamato ultimamente però è interessante io ti farei una domanda un po' più non tecnica nel caso in cui tu direttore Gerolamo direttore avesse un alchieri doppiatore davanti che sai che può darti quello perché tu lo sai che lui ti dà quella cosa però in quel momento forse non riesce a esprimere bene perché forse l'ha troppa fretta oppure quel momento e come il consiglio daresti e l'alchieri come direttore e come risponderesti al direttore per fare delle domande difficili però dunque cosa direi allora dunque intanto io quando faccio il direttore almeno cerco di non scordarmi mai che si lo faccio seriamente cerco di farlo con tutti i crismi ma non è un'operazione a cuore aperto è un turno banale di doppiato per cui all'attore cercherei di infondere questa tranquillità e rilassatezza che poi credo sia la cosa più utile perché il lavoro venga meglio insomma e quindi di rilassarsi e divertirsi perché poi se ti diverti tu probabilmente si diverte anche chi ti ascolta insomma di ripugliarla un po' un pochino scialla dicono a Roma leggera insomma il consiglio che ti è stato dato il consiglio che ti è stato dato nel tempo che poi in realtà quel consiglio poi tecnicamente artisticamente ti ha fatto anche crescere poi nel tempo perché nella vita i consigli come quando tu dicevi si entra in sala si ascoltava si rubava con gli occhi e con le orecchie ciò che facevano gli altri e non è che si copiava ma si faceva proprio quello che lui stava facendo e si adattava alle proprie caratteristiche però qual è stato quel punto che ti accorgi che nel tempo poi ti ha fatto crescere guarda è una cosa che dicono tutti quelli che fanno sto messiere ma che è molto vera non mi ricordo chi me l'ha detto per primo ma ne è stato ripetuto molte volte e lo ripeto sempre anch'io di guardare gli occhi dell'attore e i fiati cioè se tu respiri insieme a quello lì sullo schermo e guardi negli occhi e cerchi di capire dagli occhi l'emozione che ha è tutto più facile però ti devi mettere veramente al servizio di cioè il doppiato è un'opera di traduzione come traduzione è un tradimento come tutte le traduzioni ovviamente però quanto più ti incolli a quella faccia quello sguardo a quel modo di stare e di respirare è tanto più facile se poi l'attore sullo schermo è bravo è molto facile molto facile e tu hai fatto cartone animati giapponesi ad esempio Your Name nel mondo giapponese in realtà nel doppiaggio italiano si guarda molto il labiale nel giapponese a volte questa cosa non si bada a volte la frase finisce leggermente con se c'è non fiato non lo si fa se non c'è non si fa per rispettare la forma d'onda questa cosa ti è capitata anche a te rispettare a volte finisce con la bocca aperta ma il suono è finito un po' prima perché effettivamente la parola nella ridoppiaggio nella traduzione è corta e che quel fiato non c'è quel sospiro quella ma sai lì dipende un pochettino dai gusti diciamo del direttore c'è chi predilige coprire tutto anche quando c'è una bocca aperta che non fa nulla e c'è chi invece rispetta un pochino più l'originale ti posso dire che i cartoni animati giapponesi sono a me non piace non mi piace molto farli e sono molto difficili in realtà perché le bocche del cartone fanno questo non hanno e tu devi infilare dentro a questa roba qui delle parole dei ritmi delle emozioni ma le bocche questo fanno e poi un'altra cosa i cartoni non respirano non hanno bisogno di respirare ma noi sì quindi anche infilare dentro lo spazio per poter pigliare il fiato è faticoso un consiglio che daresti a un giovane che vuole intraprendere questo mestiere nonostante tante difficoltà come tutti i mestieri si porta le sue proprie difficoltà tanta pazienza tanta pazienza e poi non pensare di dire ah c'è una bella voce ah mi piace un cartone allora voglio fare il doppiatore no il doppiatore è secondo me deve essere prima di tutto un attore quindi studiare recitazione fare dei corsi di teatro di recitazione imparare una dizione e poi ti puoi specializzare nel doppiatore ma troppo spesso la gente pensa che il doppiatore però mi piace vengo provo anch'io no è come voler dire non so uno dice ah che bello fare un'operazione al cuore ma piglio il bisturi e tagli e no prima devi studiare non puoi sbagli è vero che noi non ammazziamo nessuno però meglio di no tu hai detto bella voce in realtà la voce va in base al personaggio cioè se è un tipo di montagna non penso che ci parli il classico linguaggio del raffinato ma però mazzotta chiaramente non è una bella voce ma è adatta ai personaggi che fa quindi non esiste la bella voce o brutta voce anche perché una tua collega mi disse hai sentito mai la voce a un bambino a un neonato no il muscolo le corde vocali sono i muscoli più piccoli quindi bisogna addestrarli e lavorarci ma studiare sì ma poi non esiste la bella voce cioè nel doppiaggio certo Luca Ward ha una bella voce è ovvio però servono tutte le voci servono quelle belle quelle brutte quelle fesse quelle acute quelle basse cioè i personaggi sono tanti non hanno tutti una bella voce se io devo fare Pinteri nel Pirata dei Caraibi non se ne frega niente della bella voce quello è un nano malefico simpatico il pelato è piccolo non serve la bella voce però serve per visitare questo sì sei anche dialoghista in molte traduzioni ls come nel turco la 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 o o in inglese oh my god che poi molto spesso utilizzano frequentemente che poi rintrodurre in queste cose perché poi sono diverse noi utilizziamo santo cielo oh mio dio o non è facile riuscire ad adattare il testo e soprattutto dare un senso logico e complesso quando una frase di cinque parole in inglese in realtà tradotta ti perderebbero quindici no è difficilissimo infatti io non lo faccio più nel senso a me piace molto perché io sono un elitmista mi piacciono le parole crociate senza schema e fare l'adattamento è praticamente fare le parole crociate senza schema perché non è solo una traduzione devi anche adattare alla lunghezza e devi cercare di beccare in qualche modo il labiale quindi un lavoro molto importante che purtroppo sempre per il discorso della fretta di qui sopra e del dover macinare e di dover produrre purtroppo gli adattatori spesso hanno pochissimo tempo per farlo e invece ci vuole tempo soprattutto se poi è una sitcom soprattutto una cosa comica perché ci sono giochi di parole che in italiano non vogliono dire nulla e quindi vanno reinventati ci sarebbe poi tutto un altro capitolo che non so se è il caso di aprire qui ma sulle varie imposizioni che vengono poi dall'alto perché c'è per esempio chi dice no questo prodotto deve dire le stesse esatte parole sì ma in italiano non vuol dire niente non importa Netflix o chi per lui vuole che le parole siano le stesse che non ha senso perché se tu guardi un adattamento che sempre viene preso ad esempio quello di Frankenstein Junior che è meraviglioso ma non ha niente spesso non ha niente a che vedere con l'originale nel senso che se l'ha inventato l'adattatore perché l'originale era un'altra cosa che tradotta non avrebbe avuto senso insomma oppure possono anche altre essere censure di vario tipo mi ricordo quando facevamo i Digimon alla fine della saga dei Digimon si scopriva che tutto era faceva capo a un Dio dei Digimon ora per la RAI mi pare Dio non si poteva dire non si poteva essere un Dio dei Digimon perché Dio è uno solo e trino Gesù Cristo e per cui l'adattatore che ho fatto anche esattamente dei Digimon si doveva inventare la potenza suprema quello diceva il Dio dei Digimon punto e però siamo pieni di queste cose che il pubblico magari non sa e dice vabbè ma è diverso l'originale ho capito lo sappiamo anche noi però a volte ci viene anche imposto un esempio è Candy Candy che con il gatto se ne va e poi in realtà era un brocione o tanti altri personaggi la tata dove in realtà la mamma la zia la zia lei non è brea ma è romana cioè nel tempo la televisione ha imposto delle regole perché bisognava per rispetto della sua la televisione imponeva quel rispetto dei dogmi alla fine si chiamano dogmi la famosa frase che viene che nessuno dice in italiano ah questa fottuta che nessuno dice questa fottuta ma si dà però dato che è maledetta la parola e in Italia in questo paese maledetto non si può dire perché è un riferimento religioso e per cui diventa fottuto cioè ce ne sono mille di questi esempi che ti potrei fare purtroppo è così studio 7 in collaborazione con sport e piceno game presenta l'intervista di pietro e beh è stato un piacere parlare con voi spero di rivedere tutti presto ciao tutti è stato un piacere